che succede che dormita che ore sono oh mi è arrivato un messaggio da nico è questo quello che mi ha svegliato buongiorno stasera siete tutti invitati alla festa in maschera a casa mia mi raccomando puntuali per le 21 oh mio dio mi ero dimenticato della festa di nico beh meglio tardi che mai giusto in teoria è ancora giorno sì perfetto beh devo fare tutta la mia routine e la mia giornata completa qui sul live together per poi andare a prendere anche un regalo a nico mio dio non solo partecipare alla sua festa devo prendergli qualcosa beh sbrighiamoci d'altronde la mia routine non è poi così lunga inizio beh sicuramente togliendomi il pigiama e facendomi una bella doccia calda non so se sono l'unica ma io uso l'acqua bollente perfetto arrivati a questo punto chiudo tutto poi laverò la doccia per conto mio e mi lavo i denti nel mentre che ancora non mi sono in realtà mi sto lavando gli occhi però vabbè lascio perdere devo rimanere così almeno due minuti mi risciacquo per bene e adesso beh è arrivato il momento che odio di più devo asciugarmi i capelli e mettermi i vestiti per uscire ma prima faccio il mio primo snap della giornata devo far sapere a tutti che sono lavata e profumata scusatemi buongiorno e lo metto nelle mie stories e poi perdo un altro po di tempo a guardare le stories degli altri giocatori che sono nel server ovviamente e tutti gli snap che mi mandano sono tornata nei miei vestiti e non lo so fuori dal bagno ora che mi sono lavata con l'acqua calda c'è molto freddo quindi ho intenzione di alzare un pochino il riscaldamento una snap da anthony o mio dio quanta gente c'è in questo server allora sta giocando a biliardo a casa sua già a quest'ora del mattino vabbè non importa comunque ci vedremo alla festa come vedete la mia casa è piena di roba per i riscaldamenti ed è bellissimo ora ricordiamoci di spegnere tutte le luci vorrei fare un po di colazione perché sto morendo davvero di fame però non ho niente a casa mi sa che non ho nemmeno fatto la spesa infatti è tutto vuoto penso proprio che farò due faccende di casa e poi andrò a fare colazione fuori perché su life together le cose sono davvero molto realistiche intanto devo mettere i vestiti a lavare perciò li prendo dalla sacca dei vestiti sporchi apro qui li metto qua dentro e ora faccio partire ragazzi gira veramente io sono troppo emozionata di questa cosa comunque visto che ci rimetterà un'oretta io ho tutto il tempo di uscire andare appunto a farmi fare una bella colazione ricordiamoci che devo chiuderla la casa l'ultima volta ho avuto uno stalker qui e non ne voglio avere altri quindi mentre vado a fare colazione vorrei mandare uno snap però mi ricordo che non ci andrò a piedi soprattutto perché qua non posso correre e la distanza dalla città a casa mia è davvero tanta perciò mi sono cioè sono costretta a prendere l'auto che in realtà mi fa piacere perché so guidare e quindi mi diverte ok cerchiamo di non rovinarla scendo a chiudere il cancello anche qui lo devo bloccare perché i ladri o gli stalker possono entrare pure da qua e ora vi porto nel mio posto preferito un altro snap da viki però sto guidando non lo posso vedere non posso usare mica il telefono mentre guido rischio di farmi un incidente e rovinarmi tutta la giornata ok l'unico bar decente di questo gioco è proprio qua mi tocca parcheggiare la macchina qui vicino facciamo che la metto qui anche se qua ci starebbe il bus vabbè dettagli e ricordiamoci che posso chiudere pure la macchina così non entra nessuno preleviamo un paio di soldi perché altrimenti come faccio colazione ok metto il pin non guardatemi ragazzi scusate un attimo ok perfetto mi stampa i soldi riprendo la carta mi stampa i soldi ok e ora posso andare a fare colazione ora visto che non è mattina troppo tardi nemmeno troppo presto però a quanto pare il posto è ancora libero salve salve vorrei ordinare un cappuccino e un cornetto per favore che è quello che prendo sempre anche se vedo che non hanno cornetti una ciambella andrebbe bene ah certo capisco un attimo solo ok ah sta scrivendo qualche cosa ho ordinato tè e torta non proprio però vabbè facciamo finta di sì ah devo pagare con la carta oh mio dio sto male bellissimo perfetto ok grazie perfetto aspetto al tavolo allora me la porta lei immagino di sì si accomodi pure sì ecco appunto ah raghi questo posto è molto instagrammabile e quindi farò uno snap e farò vedere a tutti che sono qui al bar ecco qui e lo mando a tutti i miei amichetti nel frattempo vediamo lo snap di vicky che non ho visto prima lei è dal parrucchiere sicuramente si starà preparando per la festa di stasera ecco a te cara il tuo ordine ma come dei pancake mi scusi io non ho ordinato dei pancake mi scusi eh però io avevo preso un cappuccino e un cornetto non una cioccolata e dei pancake siamo mortificati ma essendo che è un po' tardi abbiamo finito molte cose un po' tardi ma che sto dicendo ho detto che era presto poco fa oh mio dio ragazzi non abbiamo gli ingredienti per sfornare altri cornetti vabbè devono essere tutti venuti qui alle 6 del mattino ho capito non si preoccupi mangerò lo stesso comunque qua fanno la cioccolata migliore che abbiamo mai mangiato mi resta solo assaggiare i pancake beh niente male comunque ho già pagato direi di andare a preparare la mia il mio regalo che farò a nico stasera anche se ha fatto appena uno snap spesa per stasera oddio sto preparando già le pizze ragazzi ma siamo pazzi allora allora ho altre cose da fare ho una lista di roba da fare intanto devo prendere il mio vestito però devo fare anche un regalo a nico e non lo so che cosa gli prendo una collana gli prendo dei dolci non lo so aiuto ho controllato la mappa non ci sono tanti altri posti dove andare a fare dei regali quindi penso che prenderò dei dolci ma prima mi prenderò il vestito che userò stasera allora ragazzi sono un po' indecisa dovrei cambiarmi dei vestiti dovrei trovare qualcosa di decente salve oh mio dio si è messo in mezzo posso darlevi una mano per caso salve enna no per ora no sto solo guardando ti prego togliti ok allora che ne di te di una gonna questa gonna qua è terribile non so qual è il tema della festa ragazzi vorrei solo qualcosa di decente tutti i vestiti qui sembrano fare schifo questo connellino in realtà è carino in realtà sapete che cosa anche questo vestito è molto carino oh no non è vero questo è molto meglio però pure questo è grazioso sono indecisa devo chiedere al commesso mi scusi mi dica prego allora venga qui ai camerini mi deve aiutare a scegliere il vestito migliore c'è questo oppure questo qui eccolo oh wow devo dirle che sono entrambi deliziosi ma questo le dona molto di più ah beh si in effetti lo penso anch'io ok perfetto allora lo prendo ragazzi anche qua tanto mi faranno pagare in carta non so perché ho preso i soldi veramente perché cosa li avrò prelevati a fare si paga quanti soldi sto spendendo oggi però di averne abbastanza per il regalo che da fare a Nico perfetto grazie arrivederci ok ragazzi non mi resta che prendere i dolci per come regalo veramente non sapevo che altro fare però dai un regalo che si può mangiare secondo me non è brutto ok devo sbrigarmi perché è quasi il tramonto salve Arturo vabbè ok però che carino ha una ciambella sulla testa vuole una torta eh ci ho pensato in realtà però non lo so sono un po' indecisa una torta è per un compleanno anche se per quattro persone una torta è molto lo sa beh si in effetti sa che le consiglio questi cupcake appena sfornati in effetti ci sono cupcake per ogni nostro colore sentami di a quelli sono perfetti facciamo beh almeno due a testa non si sa mai chi fa il bis quindi sono otto sono caldi caldi oh perfetto la ringrazio grazie mille arrivederci oh mio dio rocchie devo sbrigarmi non so che ore sono ma sicuramente sarà tardi ok mi devo sbrigare mi devo sbrigare spero che non siano ancora arrivati nessuno a casa di Nico alla festa e che siano ancora tutti non lo so si stiano preparando come me è rosso vabbè chi se ne frega mi prenderò una multa oh mio dio ma sono tutti rossi va bene non posso passare non posso passare devo aspettare il verde e dai su ok ok sentite non parcheggerò l'auto bene la metterò solo nel mio vialetto e poi vabbè questo mi costerà e poi vabbè entro in casa e mi vado a cambiare direttamente devo spegnere anche il riscaldamento me ne sono dimenticata prima di farvi vedere il vestito scendo le scale e siete pronti? tadaaa come mi sta raghi? secondo me molto molto bene spengo le luci di casa e corro da Nico oh a proposito mi è appena arrivato uno snap da parte loro da parte di Nico parti sono tutti gialli ma come sono vestiti eeeh ok vabbè mi quasi dimenticavo devo spegnere il riscaldamento eeeh devo abbassarlo ok perfetto eeeh ho spegnuto tutte le luci si ora posso chiudere andiamo sbrigiamoci l'unica cosa che non so l'indirizzo di casa di Nico pensavo fosse qui nei paraggi a quanto pare no e dall'altra parte ma che cosa bellissima si è preso Nico eeeh facciamo che la mia macchina sta benissimo qui tanto è una strada senza uscita ok eeeh spero che non si arrabbi oh saranno già alla stanza cinema Nico Nico rispondimi ti prego vieni mia ad aprire è veloce qua fa freddo Nico oh vedo la sua testolina dai dai su che ti ho portato oh il regalo quasi dimenticavo ciao Jenny pensavo non avvenissi no sono portato dei dolci per stasera raghi in realtà io sono lenta e in ritardo in quasi tutti i posti nella mia vita è impossibile ho capito che questa cosa rimarrà con me per sempre oh grazie figurati guarda li appoggio qua così li possiamo prendere dopo vieni abbiamo messo in pausa il film per aspettarti ok grazie che carini che sono i miei amici comunque raghi questa era proprio una mia giornata tipo ovviamente questa giornata era speciale perché c'è una festa però insomma di solito è questo quello che faccio oh scusate chiudo la porta eeeh anzi non c'è una porta dovete spegnere la luce per esserci più ambiente così si vede meglio il film eccoti finalmente dai siediti ok ok beh raghi direi buonanotte e buon film a me scrivetemi nei commenti com'è la vostra routine oh ci sono i popcorn i popcorn